Roberto Baggio, giocata deliziosa, si libera molto bene, grandissima azione, Roberto Baggio! Divino! Pericolo! Rijkaard, pericolo con la palla, pallone deviato, la mette in aria, va di testa! Rijkaard, Rijkaard, che grande gol di Rijkaard! Ambrosini, spattono ancora contro la difesa, caliperà un bel pallone, Ambrosini, che gol, che gol è stato, che gol! Massimo Ambrosini!